come dal titolo vi mostro la mia collezione di videogiochi playstation 1 partendo da quelli incompleti nel mio bellissimo porta cd a tema spyro e iniziamo con dragon ball z ultimate battle 22 un bellissimo gioco della mia infanzia noterete che il disco è opaco per il semplice fatto che l'ho riparato come ve lo spiegherò in un tutorial più in avanti poi abbiamo mortal combat trilogy di cui ho anche il libretto ma non ve lo mostro nel video perché è dentro un'altra scatola non c'ho voglia ma qui manca un disco questo perché ho fatto un acquisto e ve lo mostro più in avanti poi abbiamo saga frontier 2 un gioco che ho fatto un paio di partite mi piace ma non lo inizierò del tutto perché ho altri giochi rpg da finire si sono usurati ma per fortuna tutti funzionanti poi abbiamo il primo disco di final fantasy origins mi manca il secondo è ovviamente le copertine spero di trovare in giro per internet delle copertine in ottime condizioni e a prezzi umani perché veramente ci sono bagarini speculatori che mettono prezzi alti per delle semplici copertine fronte e retro il libretto veramente una vergogna poi abbiamo dino crisis ragazzi un altro pezzo da collezione se non sapete a quanto li ho pagati vi consiglio di andare a guardare nella mia playlist gli acquisti che ho fatto in questi anni troverete tante perle e ogni volta a gennaio faccio sempre acquisti fortunati di culo poi dalla mia collezione fin dall'infanzia abbiamo hexen e is pro evolution 2 is pro evolution 2 non è il mio ma di mio fratello hexen è uno di quei giochi dallo stile più o meno doom solo che qui puoi interpretare tre eroi ovvero un mago un guerriero e mi pare un altro tipo di guerriero che può sia combattere e sia fare mangiare insomma è bilanciato non l'ho finito perché mi blocco al primo livello sì ragazzi mi blocco al primo livello e non so come andare avanti perché dopo che hai sbloccato tutto con chiavi eccetera quando devi salire dove c'è quel pilastro io non so che fare più avanti come vedete anche is pro evolution 2 è stato riparato allo stesso modo di ultimate battle 22 ovviamente è una riparazione do it yourself fatti in casa fatti in casa nel senso che ho utilizzato dei materiali che ho comprato e ho applicato questo metodo poi abbiamo pong un altro gioco della mia infanzia che lo devo finire completarlo al 100% ed è abbastanza difficile ma molto divertente se ci giochi in quattro giocatori bello 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 spider dei videogame che ci ho fatto pure una recensione retro questo pure lo devo finire perché mi pare di essere completamento del 70 80 per cento del gioco anche questo un bel gioco mi ha regalato un bel non dico trauma perché poi ci rigioco e non mi fa più senso cioè non è che mi ha traumatizzato però mi ha spaventato parecchio poi abbiamo spyro il primo purtroppo spyro 1 e spyro 2 sono parecchio rigati che non ci riesco più a giocare nel senso sì si avviano i giochi tutto quanto però alcuni livelli o non me li fa partire o se me li fa partire si glitchano gli audio quindi mi devo recuperare di nuovo dei dischi più funzionanti magari con meno graffi possibile chissà se il buon vinted e l'utenza capisce di vendermi dei dischi funzionanti forse forse tanto i giochi di spyro sono multilingua quindi se li vado a prendere da un francese i dischi e mi costa meno ben venga poi abbiamo pandemonium un gioco che recuperai nel 2017 in negozio dell'usato a 2 euro e 50 un ottimo affare ci ho fatto un paio di partite però ho intenzione di portarmelo come serie gameplay poi proviene dalla mia infanzia un pezzo da collezione veramente raro yattaman c'ho solo disco perché purtroppo come potete notare molti di questi giochi della mia infanzia purtroppo in famiglia siccome hanno il brutto vizio di buttare le custodie con tanto di librette e copertine quindi cazzi amari passiamo al prossimo portadischi questo qui è più anonimo e abbiamo c12 final resistance un gioco interessante che vorrei portare come serie gameplay che l'ho pure sistemato se non ricordo male perché dava problemi al primo filmato in game perché c'era una navicella che doveva spostarsi non andava avanti questo qui è stato riparato ma stavolta non ho utilizzato tutti i materiali ne ho utilizzato uno solo che serve per ripristinare la plastica del disco ovvero la superficie in modo tale che il lettore riesca a leggere meglio i dati un altro gioco della mia infanzia abbiamo disney learning mickey anche se già sapevamo contare parlare e sappiamo i vocaboli comunque ci divertiva lo stesso sia me mio fratellino giocare nei panni di topolino che deve acchiappare il ladro oppure pippo sonnambulo che va in giro per i cantieri con topolino che ha ansia a mille poi abbiamo l'arcade mod di gran turismo 2 già mentre sto registrando riesco già a sentire da qui l'odore dell'asfalto è uno di quei dischi scratch e sniff ovvero gratta e annusa dove ti facevano sentire gli odori qui in questo caso inerenti alle corse automobilistiche credetemi già da lontano perché sentivo l'odore dell'asfalto poi abbiamo la versione platinum sempre di gran turismo 2 la gt mod che mi mancava ma tanto questi due dischi di gran turismo 2 avranno molto presto una loro custodia particolare con delle copertine uniche non vi posso spoilerare nulla perché sarà una sorpresa quando uscirà il video tutorial sul ripristinare la collezione prestigio 1 sempre dall'infanzia abbiamo mondiali fifa 2002 un altro gioco di calcio che spesso mio fratello più piccolo mi tartassava a giocare ai giochi di calcio e che fai alla fine un po' ti ci affezioni anche se ripeto a me i giochi di calcio o i giochi sportivi in generale troppo realistici mi annoiano un altro caso che fa eccezione sempre dall'infanzia è Actua Golf 3 anche questo riparato con lo stesso modo di Ultimate Battle 22 e Ispro Evolution 3 aspetta scusate Ispro Evolution 2 mannaggia me funzionante al 100% sono riparazioni fai da te purtroppo non c'ho il macchinario che mi serve ma prima o poi conservando soldi me lo recupererò poi abbiamo la demo 1 recuperata nei precedenti acquisti o meglio regalata nei precedenti acquisti mi pare sia la versione 3 ma non ricordo bene ma comunque ci ho fatto una serie gameplay sui dischi demo non tutti se siete interessati un altro disco che proviene dalla mia infanzia e che stranamente l'avevo trovato a casa dei nonni in Polonia questa raccolta di giochi demo che inizica ci sono bei giochi che vorrei recuperare innanzitutto Agent Armstrong Little Big Adventure che sono i primi due giochi che mi interessa recuperare da questa demo quella cosa bella è che anche oggi c'è chi nelle demo ti invogliano a recuperare qualche gioco questa è una delle penultime correggetemi se sbaglio versioni della demo 1 si ragazzi ci sono più versioni della demo 1 uscite o stand alone oppure in bundle con la playstation 1 perché ti dava un anticipo di quello che andavi a giocare se ti andavi a comprare i giochi completi un altro gioco più o meno dalla mia infanzia barra adolescenza che mi è stato regalato da un vecchio amico Football Special che ci ha fatto pure la serie gameplay su sto gioco la cosa buffa è che giocandolo su playstation 3 non mi si avviava un gioco mi usciva un testo avete presente quando vi escono gli errori durante la programmazione di un gioco uguale poi dall'infanzia Winter releases del 98 che prima o poi ci farò una serie gameplay pure su questo tanti ricordi e uno dei miei giochi preferiti in assoluto dentro questa demo è a mani basse Ghost in the Shell che porca la miseria se lo compri completo la versione europea ti costa un rene porca la miseria costa un botto ma perché non mettete a prezzi umani mannaggia a voi poi abbiamo la Euro demo 50 sempre che proviene da quei recuperi gratuiti non mi pare di averci fatto una serie gameplay ma prima o poi ce la farò si ragazzi ho in mente di fare serie gameplay di tutte le demo europee playstation e chissà se recupero qualche demo americana ne farò giusto qualcuna perché non ho intenzione di recuperare tutte le demo americane perché alcune sono facili da reperire altre costano un botto dall'infanzia un'altra demo che era in bundle con la versione slim della playstation 1 la disney interactive la cosa toga che oltre alla sua custodia personalizzata unica nel suo genere a tema disney tra l'altro la bundle che avevo di questa ps1 da quel che mi ricordo era personalizzata a tema disney con la demo e le etichette da attaccare gli sticker insomma dei personaggi disney e pixar ci ho giocato un botto a sta demo in particolare a monsters and company ultima demo silent team che comprende due livelli di gioco ma stranamente li chiama due modalità una introduzione l'altra modalità battaglia ma io mi immaginavo in sta demo ma che cos'è la modalità battaglia mi facevo chissà quante quante immaginazioni aspetta ma vuoi vedere che è in realtà boh non so un'arena dove c'è il protagonista che deve ammazzare più mostri possibili tipo un minigame un qualcosa no niente e ora cari miei si passa ai giochi completi con gran turismo 1 che recuperai mi pare sempre nel 2017 a 11 euro qua vicino nella mia zona tutto completo e lo sto tuttora giocando perché le ultime gare sono toste da completare ma non tanto per la difficoltà perché bene o male se c'è una macchina potente è molto stabile la fai tranquillamente il problema è la tua resistenza e la tua pazienza perché fare tanti giri è veramente stressante ti mette veramente alla prova è uno stress mentale tutto completo di libretto e copertine come sempre ragazzi io i giochi li compro usurati perché difficilmente li becchi nuovi sarebbe bello se riproducessero o ristampassero i giochi playstation 1 perché sarebbe veramente togo e secondo me sony se li ristampa o aziende di terze parti sarebbe togo 007 tomorrow never dies un bel gioco tutto completo di copertine e libretto disco in ottime condizioni quasi perfetto direi che poi i collezionisti si lamentano tanto dei libretti delle platinum però se guardate la maggior parte dei libretti playstation 1 non sono a colori proprio veramente pochi ce ne sono a colori quindi non c'è tanta differenza estetica con i libretti l'unica cosa che può cambiare è giusto l'estetica della copertina dei dischi come potete vedere disco in perfette condizioni giusto qualche impronta digitale mia perché mannaggia a me quando ci devo giocare alla play 3 non faccio mai attenzione dove metto le dita ma tanto con un po di alcol isopropilico va via tutto resident evil 2 come avete notato io li metto in fila i giochi play 1 a seconda del genere siccome gran turismo 1 c'è la tema di guida quindi sta da solo così come tomorrow never die che è un gioco puramente action questo è l'unico gioco che ho al momento completo a tema horror dischi un po usurati ma funzionanti al 100% sono veramente contento di averlo completato in italiano mi è andata proprio di culo recuperare sia libretto e sia la copertina retro perché veramente il venditore non ne voleva sapere di scendere di prezzo con il gioco perché gli ho detto scusami c'hai copertina front e retro in inglese i dischi sono in italiano tu mi complichi la vita ma questo venditore sempre della mia città non ne voleva sapere è idiota purtroppo con questa gente idiota non ci puoi ragionare in ottime condizioni contento di aver recuperato la versione platinum di questi giochi perché veramente mi mancavano in collezione non so se recupererò versione europea i restanti resident evil 1 e 3 ho intenzione di prenderli più che altro nel playstation store che c'è la trilogia completa a 15 euro e tutto sommato ci sta sono 5 euro a gioco e che fai te ne previ meglio per recuperarmi questi che risparmio piuttosto che prendermi resident evil 1 o 3 specialmente 3 che costa un botto bell'a Comunque belle le immagini che rappresento Giusto una curiosità Scrivetemi qua sotto nei commenti Qualcuno ha mai beccato la versione di Resident Evil 2 Con una copertina alternativa Ovvero la prova d'acquisto 1 E esattamente come funzionava Ovviamente lo chiedo ai più vecchi di voi Io che sono giovane, nato nel 97 Ste cose non le potevo sapere Andiamo con Spider-Man 1 Sprovvisto di copertina frontale Ma prima o poi la recupero Perché quella non è difficile da trovare Era più difficile semmai cercare un libretto Del primo Spider-Man Contento di averlo recuperato su Ebay A prezzi bassissimi Mi è venuto proprio di culo Tanto non me ne frega dell'italiano Perché è tutto doppiato in inglese Giusto i testi a schermo erano in italiano E quindi capirai Meglio prenderselo totalmente in inglese Che mi costa di meno Seri curioso di provare la versione Dreamcast Del primo Spider-Man Sempre se mi capiterà un buon prezzo umano In giro su Ebay, Vinted, Wallapop O subito.it La speranza è l'ultima a morire gente Ha delle righe un po' strane Ma vi posso assicurare che funziona perfettamente Giusto mi preoccupa un po' quel graffietto un po' profondo Ma per il resto funziona, non dà problemi Passiamo al suo sequel Fatto non da Neversoft Ma da i ragazzi che hanno fatto il remake Della trilogia di Crash Bandicoot E sto parlando di Vicarious Vision Ah comunque mi ero dimenticato di mostrarvi La copertina retro di Spider-Man Del primo Spider-Man Comunque tornando a noi con Spider-Man 2 Devo dire che Vicarious Vision Ha preso tutto quello che c'era di buono Nel primo E ha migliorato nel secondo Anche se i fan, il pubblico Diciamo l'ha colto un po' tiepido Questo sequel Perché tutti si ricordano di più il primo Perché è bello, tutto quanto Però il secondo Hanno migliorato tante cose Pure la grafica I modelli 3D Hanno sfruttato secondo me meglio Che potevano sulla PlayStation 1 Poi ognuno ha il proprio motore grafico Che non era unico come ce l'abbiamo oggi Che tutti utilizzano lo stesso motore grafico Come Unity O Godot Engine O altri programmi Queste sono macchie di umidità Che se ne vanno via Sempre con alcol isopropilico Ragazzi ricordatevi Usate alcol isopropilico Ma soprattutto Evitate l'alcol rosa Perché vi buca i dischi E a me è successo Per fortuna con dischi che non si potevano riparare In alcun modo ci ho fatto il test Qui abbiamo un altro bel gioco Disney Che ho intenzione di aprirlo Un po' mi duole Perché ci ho impiegato un bel po' di tempo A utilizzare queste bustine Protettive Che più che altro Fungevano da protezione Per i graffi Perché strisciando da custodia a custodia Non è tanto bello Queste bustine sono ottime Le ho utilizzate per un bel po' di custodie PlayStation 1 O custodie tipo PlayStation 2 Gamecube Prima Xbox Sono veramente pratiche Devi un po' starci attento A non romperle Soprattutto quando le devi rimettere a posto Ma tanto Mi frega niente Perché anche se si rompono Per fortuna costano pochissimo Non sono a prezzi esagerati Quindi Le posso recuperare in ogni momento Bello l'artwork Dei protagonisti Del film Ne mancano un bel po' In queste immagini Ma vabbè Sono sempre belle da vedere Che ti raccontano un po' Le vicende del gioco Sono cose belle i libretti Peccato che non li fanno più Ma posso capire che le aziende Vogliono risparmiare Più possibile Al giorno d'oggi Con i giochi fisici Ecco Un'altra chicca bella Delle copertine PlayStation E che alcune Ti facevano pubblicità Dei loro prodotti E io prima o poi Me lo prenderò Il controller rosso Della PlayStation 1 Non so se si è notato Ma il colore rosso È il mio colore preferito E lo vorrei recuperare Non dico Di tutte le console I controller Se hanno il colore rosso Disponibile Di sicuro Il primo acquisto Sarà su un controller PlayStation 1 O PlayStation 2 Disco in perfette condizioni Questo è un gioco Che ho recuperato Tra il 2016 E il 2017 Da un privato Su Facebook In quei periodi Facebook Era un'ottima piattaforma Dove emettere gli annunci Che mette in vendita Videogiochi Peccato che ha perso Quel potenziale Che aveva Perché oramai Tutti vanno Su Vinted Su Ebay Insomma Non c'è nessuno Che fa ancora Scambi a mano A massimo Ci sono io Che lo faccio E lo scambio a mano Ma vabbè Peccato che non c'è più Nessuno Che si alza le chiappette E dice Oh ma c'è qualcuno Nella mia città che vende giochi A un buon prezzo Mi sa che quasi quasi Vado da lui Vediamo se riesco a metterlo Mannaggia a me Oh Che bello L'ho messo Al contrario Perché Diciamo che La chiusura Con la colla La metto dove c'è La parte retro Del gioco Ma Chi se ne frega Non sono così tanto Precisino Perfettino Un consiglio Che vi do Con la collezione Videoludica E non vi concentrate Troppo Sul recuperarlo Tutto completo Ma vedete La cosa più importante Se funzionano I dischi Se no Ve la pigliate Nelle chiappette Questo è uno dei giochi Che ho recuperato Nel negozio Dell'usato Tanti anni fa A 2,50 euro Completo di tutto Black Label Monsters & Company Nello spavento Mi son detto No Questo lo devo recuperare Assolutamente L'ho recuperato A novembre Del 2015 Mi pare Dove Ho detto tra me Uno dei miei giochi Dell'infanzia Che ho giocato Un botto Nella demo PlayStation 1 Disney Finalmente Ce l'ho Tra le mani Che bello Tutto completo Disco in perfette condizioni Io ripeto I collezionisti Non vi lamentate Tanto delle platinum Perché i libretti Sono pressoché Gli stessi Perché in quei periodi Non si consumava Chissà quanto colore Per le pagine Dei libretti Li hanno lasciati In bianco e nero Per risparmiare Colore Dei toner Disco in perfette condizioni Un po' di macchie Di umidità Che se ne vanno Facilmente Guardate che bello C'è la versione PlayStation 2 Con la limite Io quando l'ho scoperto Ho detto Cosa? C'è una limite Ed edition Per PlayStation 2 Un'altra cosa bella Di ste copertine Play 1 Che ti teaseravano I prossimi giochi In uscita Che poi hanno Delle copertine belle Questo mi sa Che era una copertina PlayStation 1 Di Peter Pan Beta Possiamo dire Che poi la copertina Finale È un'altra Questa qui Sembra Tipo un Placeholder Un qualcosa In fase di progettazione Della custodia Play 1 Di Peter Pan Ma vabbè Vediamo se qui Ci riesco A sistemarlo Annaggia a me Eccala Questo si è rotto Ah santa pazienza Vediamo se riesco A farlo entrare Tutto Senza rompere Tutto Sai che ti dico? Lassamo sta Lassamo sta Prossimo giro Bugs Bunny Lost in Time Seconda stampa Una cosa che adoro E che ha fatto La Infogrames E fare Con questo abbinamento Di colori Blu E giallo Senape Più o meno È bellissimo Io l'adoro Questa seconda stampa Il design mi piace Per come hanno realizzato La collana Dei tuoi eroi preferiti Poi vabbè raga Che c'è Cos'ho da dire Su sto Bugs Bunny Lost in Time Uno dei giochi Di infanzia E miei preferiti Che ho raccontato Più e più volte Aneddoti su sto gioco Durante la mia serie gameplay Vedetela tutta Disco in perfette condizioni Giusto da togliere Le macchie Di umidità Purtroppo Nella mia città C'è tanta umidità E cerco di preservarli E di tenerci Quanta più cura possibile Nei giochi Comunque ragazzi Bugs Bunny Lost in Time È il mio videogioco preferito E vi avrò seccato Fino alla morte In ogni videoacquisti Che recuperavo Un pezzo alla volta Di Bugs Bunny Lost in Time Per completarlo Qui abbiamo Raiman 2 La Grande Fuga Platinum Ce l'avevo Black Label Però ho detto Vabbè Me lo recupero Semi completo Platinum Da un venditore Che lo stava vendendo A Cosenza All'Unical Che si voleva sbarazzare Di due giochi E che dire Ci aveva anche Tarzan Però ho detto No La Samosta Mi prendo per ora Raiman 2 L'ho pagato Mi pare Dieci euro Era nel periodo In cui seguivo I corsi Universitari Per chi non lo sapesse Faccio lingue e culture moderne Ho scelto come lingua principale Inglese E secondaria Tedesco E c'ho gli esami di tedesco Tra un po' Che veramente Saranno difficili Comunque Crash Bandicoot Gratis E che fai Tene primi Poi più in avanti Mi sono recuperato Libretto e copertina In ottime condizioni E adesso ce l'ho completo Sono soddisfatto Veramente soddisfatto Non è stato il mio primo Crash Bandicoot Che ho giocato Se devo dirla tutta Questo è il mio Secondo Crash Bandicoot Che ho giocato E' difficile Ma se ci prendi la mano Pian piano Ti risulterà facile C'ha comunque La sua difficoltà alta Ci ho fatto anche Una recensione retro Ne ho fatte parecchie Recensioni retro Su sti videogiochi Io vi consiglio Di andarle a vedere Alcune recensioni retro Vecchie Non avevo tanti termini Da utilizzare E pian piano Leggendo libri Sto cercando Di aumentare La mia cultura E di utilizzare Più termini Per descrivere Un prodotto Passiamo a Il buon Crash Bandicoot 2 Che è stato Il mio primo gioco Regalato anni fa Nuovo Al Carrefour Si c'è Un centro commerciale Qua a Cosenza Che lo chiamiamo Carrefour Negli ultimi anni Ha cambiato brand Ma è sempre quello E da piccolo E mio padre Ci ha portati lì E ci ha regalato Un gioco a testa Sia a me Che a mio fratellino A me Mi ha fatto sta scelta Belli papà Vuoi Questo qui che cammina E si riferiva A Crash Bandicoot 2 Oppure quello che corre E si riferiva A Crash Team Racing Io Nella mia testa Mi son detto Abbiamo Gran Turismo 2 A casa Quindi abbiamo già Un gioco di guida Preferisco più Un gioco Di avventura E io scelsi Quello che cammina Da piccolo Ho fatto sta scelta E non me ne pento Anzi Mio padre Mi diede pure ragione Si ci è divertito Più lui Che io Devo essere sincero Ovviamente Mi son divertito Un botto anch'io Con Crash Bandicoot 2 Passiamo invece Al buon Pac-Man Word Preso dal Belgio Libretto e copertine E c'è anche Un piccolo De Plian Sempre Del Belgio Questo diciamo Che è per metà mio Mi spiego Io e mia amica Siccome ci piacciono I videogiochi retro Volevamo recuperare Pac-Man Word Che tra l'altro Era in vendita Su Amazon A quant'era Mi pare 15 euro Completo di tutto E abbiamo chiesto A un nostro amico Anticiparci i soldi E di comprarlo lui Perché a quei tempi Non avevamo La carta di credito Per comprare online Quindi abbiamo Questo nostro amico Scusa Tu che c'hai Amazon Prime Compralo tu Che ti diamo noi i soldi Ci è arrivato Per fortuna Il gioco è in inglese Perché a quei tempi Evidentemente Non traducevano Per tutte le lingue La comunità europea Perché Meglio Lasciarlo in inglese Che tanto Tutti lo studiano Tutti lo possono capire E si risparmiano soldi Ovviamente Dipende da azienda Azienda In questo caso Pac-Man Word Non vi sto a dire Che c'è monolingua Per ciascun paese Anche se io Preferisco di più I multilingua Un altro pezzo Da collezione Raro The Grand Stream Saga Gioco in inglese Copertine in italiano Quanto so belle Le copertine frontali Che dietro C'hanno la pubblicità Dei prodotti Sottoghe Peccato che non C'ho il libretto In italiano Di The Grand Stream Saga Chiedo a voi utenti Per chi ancora Sta guardando il video Se avete Un libretto in più O un libretto Di sto gioco Che non vi serve Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Mandatemi il link Che avete in vendita Su Vinted Su Wallapop Su Subito.it O su Ebay Ci clicco Valuto Il prezzo Ovviamente Non fate prezzi esagerati Perché io Posso spendere Per un libretto Massimo 10 euro Già ve lo dico Poi abbiamo Final Fantasy 9 In inglese Dischi in perfette condizioni Colpa mia Che ci ho messo Le mie impronte digitali Non sto mai Attendo Quando ci gioco Alla Playstation 3 Mannaggia a me Ma vi posso assicurare Che i dischi Sono pulitissimi Non c'hanno graffi Devo togliere solamente Ste di tazze mie Mannaggia a me Il gioco è completo Di tutti e quattro i dischi Libretto completo Di tutto Pian piano Me lo sto giocando Vi devo dire Questo è il mio Primo Final Fantasy L'ho pagato Mi pare 20 euro A Milano Nel 2018 Se non erro In un negozio Dello usato Ah che bello Le pubblicità Degli altri giochi RPG E non Di Squaresoft Ce l'ho Parasite 2 Digitale Per la Playstation 3 Ah che bello Che bello Che bello Che bello Che tra l'altro Questa custodia È stata protagonista Del primo episodio Di Wikivide L'Unica Dove ho raccontato L'evoluzione E la storia Delle copertine E custodie Playstation 1 Che vi consiglio Di andare a guardare Per chi è interessato A che magari Non sa Come si chiama Una custodia O chissà Magari non sa Che edizione Che stampa è Sarà una vostra Linea guida Per quando volete Fare gli acquisti Che tra l'altro Ho tralasciato Un'informazione A sto giro Voluta In quel video E che Quando Cumulerò Abbastanza soldi Ci farò Una sorta Di DLC Una cosa Molto particolare Che veramente Come ho scoperto Sta cosa E che era disponibile Fino al 2023 Io mi son detto Porca la miseria Come mai In America Fanno ste cose In Europa No In Europa Le avrebbero comprato Cazzarola Ma vabbè Abbiamo finito Con i giochi RPG Si passa All'unico Sparatutto Su binario Proveniente Dalla mia infanzia Che ho recuperato Di recente Perché quello Che avevo Disco Oramai Ci ho provato In tutti i modi A ripararlo Ma è irrecuperabile Raga ma Videata È italiano Scrivetemelo Qua sotto Nei commenti Videata È un termine italiano O che non si usa più Perché mi suona strano Cioè Non mi sembra Tanti italiano Ovviamente Lo chiedo a voi Correggetemi Se sbaglio Ah che bello Dietro i libretti Ti sponsorizzavano Compra una memory card Che abbiamo blocchi limitati E tu che hai un voto di giochi Non li salverai tutti Su una memory card Stronzo Pagali Maledetto Pagali Questo disco È in ottime condizioni Un paio di macchie Di impronte digitali E un paio di graffi Se un giorno Dovessero chiedere Fornisca Le sue impronte digitali Gli porto La mia collezione Di videogiochi E gli dico Toh Scegliete il gioco Che preferite Tanto ci sono Le mie impronte digitali Sono a vostra disposizione Prego Favorite Così andrà a finire Non serve neanche Cioè Gli porto un gioco Playstation E gli dico Toh Ci sono le mie impronte digitali Scialateli Se li rigate Me li dovete comprare Già vi avviso Un'altra big box Anch'essa protagonista Del primo episodio Di wiki Videoludica Una grandiosa Bellissima Copertina disco Che proprio Veramente A quei tempi La gente Fantasticava Su queste Tre belle ragazze Poligonose Disco in ottime condizioni Lo pagai Mi pare Nel 2019 13 euro Perché Io ho detto Oh C'è il libretto Che c'è la copertina Mancante Già dovrò Spendere soldi Per recuperare Il libretto Tutto integro Per causa tua Non c'ho voglia Di spendere Altri soldi E mi ha fatto lo sconto Namco Che come sempre Pubblicizzava I suoi giochi Alcuni provenienti Dai cabinati arcade E notiamo Un Namco Museum Volume 1 europeo Ma io Se siete Vecchi Su sto canale Beh Avete già visto Che qualcosina L'ho recuperata Ma non europeo E qui troviamo La demo Di cui ci ho fatto Pure una serie Gameplay Che poi E' strano L'avevo già detto Nella serie Gameplay Come fai Tu produttore A metterci Il tuo stesso gioco Demo Dentro Una custodia Dove c'è il gioco Completo E' strano E' come avere Demo e gioco Completo Nello stesso posto Sembra Assurdo Alieno Molto alieno Poi abbiamo Soulblade Un altro bel recupero Siccome Un mio amico E' anche Membro del nostro Canale YouTube Jacob Wright Mi ha Mi ha Tartassato Un botto Di volte Su sto Soulblade Già Lo conoscevo Sto gioco Che alla fine Mi ha convinto E l'ho comprato E prima o poi Mi recupererò Quel arcade stick A tema Namco Lo chiedo a voi Collezionisti Se lo possedete E' comodo Da giocare Cioè Non dà problemi Difetti di fabbrica Insomma E' buono Vale la pena Recuperarlo Oppure Tanto vale Che me lo compro Di terze parti Su ebay Preassemblato Col cavo Playstation Non so Ditemi voi Io non mi faccio Problemi a recuperare Giochi Platinum Perché se risparmio Ben venga Perché io non C'ho voglia Di svedarmi Per prendere Una prima stampa Ci ho fatto Un video A riguardo Sul tema Prima stampa Oppure Platinum Cosa preferite Vi invito sempre A guardare i miei video Perché oltre a trattare Di collezione Recuperi Tratto anche Di tanti argomenti Interessanti Di tanti argomenti E qui passiamo Ai giochi Americani Abbiamo Namco Museum Volume 1 Che la cosa Interessante Di questi Giochi Americani E che Loro non C'hanno Una copertina Frontale Come noi Europei La copertina Frontale La fanno I libretti In certo senso Risparmi i soldi Sulla Sulla stampa Mi domando Perché noi Europei Non abbiamo Optato La stessa Identica Cosa Come hanno Fatto Gli americani E i giapponesi Un'altra cosa Figa E se tolgo Il disco Guardate un po' C'è Un bellissimo Artwork A tema Del gioco In questo caso Con Pacman Protagonista Dal primo volume Ed è una cosa Fighissima Perché noi Europei Poi abbiamo Sto sfondo Nero Pro Passiamo Al volume Volume 1 Volume 1 E volume 3 Li ho recuperati A prezzi Bassissimi I giochi Americani Playstation 1 Stanno abbassando Parecchio Di prezzo E ho già in mente Di fare qualche Recupero Di un altro Videogioco Che ho beccato In giro Per internet Non vi dico dove Perché me lo piglio Prima io Maledetti Collezionisti Ovviamente In senso ironico Come ogni custodia E ogni gioco Copertina Libretti E disco Perché più allunghiamo Il video E più Minutaggio Guadagno Per poter Abilitare I guadagni Su Youtube Beh Nene Nene ecco qui mostrano il controller Negcon che viene utilizzato per pochissimi giochi specialmente a tema Namco giochi di guida, giochi arcade peccato che non hanno sfruttato quel controller perché aveva una funzione unica ovvero che praticamente si muoveva totalmente non era un pezzo unico di plastica erano due pezzi di plastica separati che tu li giri perché nei giochi di guida se giri il controller è come se stessi muovendo l'analogico a destra o a sinistra anche qui vi mostro il fantastico artwork con Miss Pacman e ci sta prima o poi mi recupererò i restanti volumi 2, 4 e 5 e sono uno più raro dell'altro mannaggia a voi americani se li avete in vendita ragazzi a prezzi umani su 15-20 euro i Namco Museum volume 2, 4 e 5 sono disposto a comprarli ovviamente completi ragazzi o se ci avete solo disco possiamo trovare un accordo o incompleti però non ci andrò a spendere un botto perché i giochi americani si stanno abbassando di prezzo ma di parecchio e per me non ha senso andarci a spendere un sacco di soldi persino i giochi collector rari si stanno abbassando di prezzo ragazzi ho visto prezzi veramente bassi in giro per internet e qui abbiamo un altro gioco veramente raro che io ho pagato pochissimo Megaman 2 eh sì 2 Megaman 8 versione Greatest Hits ovvero la loro Platinum in America ed è una cosa toga perché che sia prima o seconda stampa l'artwork del gioco c'è sempre comunque sono veramente soddisfatto di aver recuperato a pochi euro questi giochi americani che se vediamo nella versione europea costano veramente un botto su questi giochi non vi dico quanto ho pagato perché l'ho già detto nei videoacquisti per i nuovi che non lo sanno vi consiglio di andarli a vedere ragazzi i video sono disponibili per tutti e si possono vedere in qualunque momento quindi non è che li dovete vedere per forza a tutti i costi però ci avete intrattenimento in più dai fantastica artwork disco puliti i giochi americani sono veramente sono nuovi io quando li compro li becco sempre nuovi dischi anche se può mancare qualcosa tipo un libretto non fa niente ma i dischi li troveremo sempre o quasi sempre nuovi si vede che gli americani ci tengono di più ai dischi rispetto a noi europei che veramente li utilizziamo come panni per pulire per terra non so come non so perché non so come ma noi li graffiamo e niente ragazzi questa è tutta la mia collezione fisica dei giochi playstation 1 in futuro mostrerò la collezione digitale dei giochi playstation 1 in un video a parte perché voglio farlo tematico uno per chi cerca collezionismo fisico e chi cerca collezionismo digitale perché si ragazzi sulle console retro dove puoi ancora acquistare giochi digitali io li reputo come una collezione digitale perché certi giochi non li recupererai mai fisico un esempio sono i giochi di tombi fisico come li recuperi vabbè sì mo c'è limited run games che fa la ristampa ma a parte quello da pixel 9 è tutto e ci vediamo nel prossimo video di collezioni scrivetemi qua sotto nei commenti quale volete vedere perché c'ho tema nintendo se volete quelli home console diciamo che mi regolo io vi mostro io un tot di giochi perché che so quelli gamecube ne ho veramente pochi quindi li metto assieme ai giochi nintendo wii e niente vi risaluto di nuovo da pixel 9 è tutto e ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti iscriviti al canale iscriviti al canale